Sopra no. Ah chi chiude? Questa linea qua no. Ah quale linea? Una linea. Quando fai una sigaretta è questo. Io non so come fare la sigaretta. La stessa cosa. Ah con il salmone è cotto lo fai questo? Sì per esempio. Salmone è cotto. Un po'. Un po'. Un po' acqua. Un po'. Acqua? Per collare. Mettiamo solo il salmone? Metti la tua mano qua. E poi chiodela. Prendela qui. E qua. Aspetta aspetta. Facciamo una foto perché è questa. Questa è una quadra. Un quadra. Questa è una quadra. Questa è una quadra. Un quadra. Un quadra. Scusate, scusate. Ma non ti voglio parlare, lo mangiamo dopo. Che vuoi parlare? Ora faccio una macchina. Mi sono già 20 euro di rotolino. Ti ricordi? Questa è dolcezza. 20 euro di rotolino. Di foglietto. No, dico il rotolino, se lo prendi da Sushi. Poi. Ancora cosa macchina? No. Uramaki. Uramaki. No. Uramaki con l'alga dentro, giusto? Si. Si parte sempre con l'alga sotto, così. Perché qua in questo caso lo copre tutto. Sì, ma il brillante è fuori. Ma anche l'altro è il brillante da fuori. Siamo, ho dimenticato. C'è bianco o c'è nero? Sì. Il brillante era fuori o dentro? Fuori. No, dov'è? Ancora. Tutti tu, è misto. Abbandiamo. Prato, l'acqua. Domani mi tocca lavare tutto il giorno. Nel piatto. Ma che ha dovuto fare, eh? Facciamo la batteria, veramente. È grosso? No, no. Questa fa l'asciugata. Ah, sì. Metti. Tutto? Un po'. Mentre le vostre foto, ragazzi. Questo cos'è? Sesamo. Sto facendo il video della preparazione così. Semi, semi. Poco. Poco? Sto. E' la madonna. Sì. Ci sono più due camera fotografica. Ah, sono due tipi? Due? Due diversi sono? Di sesamo. Che sesamo ho preso? Ah, ok. Filadelfia? No. Filadelfia? No, ho visto. Non mi preoccupi. Non mi preoccupi. Filadelfia arriva. Arriva, arriva. Arriva, arriva. Non ti preoccupare. Ehi. 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 Va sorpreso, eh. Se lo faccio io, ragazzi. Pfff. Pfff. Io ne faccio tutto. Ehi. Ehi. Vistoria. Uuuuh. Perché? Povrello. Ok. Per la teppia. L'amontato. Se non c'è Filadelfia, cosa metti? Ah, giusto. Quello che è lì fuori. Ma maionese? E' quello che fuori c'è il riso e dentro c'è la rosa. L'alga. Ma lei ha messo il pesce comunque. Dall'altra parte ha messo il pesce. Ha messo il salmone sotto, ha messo. Ah. Ah, il salmone è qui. Eh, qua ha fatto. No, perché sarà il riso all'interno. Eh? No, dico, ha messo il salmone sotto, quindi. Si? Il pesce rimane fuori. Ma il salmone non l'ha ancora messo. No. Ah. Era solo il riso. Ah, solo il riso e sesamo. Perché adesso lo deve ammogliere così. Sì. Buongiorno. 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 Così? Ah, ok. 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 Ah, su che si che sembra quello del ristorante. Wow. Wow. Ok. Buongiorno. Fantastico. Ok. Tadà. Wow. Wow. Ciao. Cosa vuoi? Nighiri? Vai Nighiri! Nighiri non serve ragga. Ok, così? Ok. Si? In mano? Ok. E poi ci metti sulla fettina. Ma è crudo quello? Ah, ha fumicato? Ah, non c'è bisogno. Quello è fumicato. Non c'è bisogno. Ah, non c'è bisogno. Vabbè, l'impatto va.